Mentre a Roma si discute, Sagunto viene spugnata. La massima di Tito Livio sembra applicarsi alla perfezione a ciò che sta accadendo a Bari. Mentre la politica sta litigando da settimane sul rapporto appunto tra mafia e politica, la mafia locale alza veramente la testa e uccide nelle strade della città il nipote del bosca peatri di quel clan, cioè che era stata proprio la pietra dello scandalo dello scontro politico. L'esecuzione mafiosa di Bari innanzitutto smentisce la superficialità con cui Michele Emiliano, governatore pugliese, aveva dichiarato di aver personalmente sconfitto da PM la mafia di Barivecchia e addirittura di aver condotto dalla sorella di quello stesso bosca Priati, l'attuale sindaco De Caro, al fine di proteggerlo dalle minacce della mafia. Si vede che la mafia locale a Bari è ben più forte purtroppo di quanto la sinistra vuol farci credere. Ma questa esecuzione smentisce anche il centrodestra che aveva concentrato la sua polemica contro il sindaco De Caro utilizzando un'inchiesta della procura antimafia per lanciare una campagna politica e soprattutto suona come un campanello d'allarme per il ministro degli interni piantedosi perché forse Bari, oltre che di una commissione che indaga sul comune, ha bisogno, forse addirittura ha soprattutto bisogno di una ben più massiccia ed efficace presenza dello Stato per la tutela dell'ordine pubblico. Altrimenti rischiamo che, mentre la politica pensa solo alle prossime elezioni amministrative, Bari si trasformi in un nuovo Far West meridionale.